I 5 cani più aggressivi al mondo. Stai attento all'ultimo! Numero 1. Lo Staffordshire Bull Terrier. Noto per la sua tenacia e coraggio, può mostrare comportamenti aggressivi verso altri cani, se non socializzato correttamente fin da cuccioli. Numero 4. Il cane corso. Questo cane possiede un forte istinto territoriale e può mostrare aggressività nei confronti degli estranei, se non ben socializzati. Numero 3. Il Doberman. È una razza molto protettiva nei confronti della sua famiglia, ma se non addestrato correttamente, può mostrare comportamenti aggressivi verso estranei. Numero 2. Il Rottweiler. Essendo un cane robusto e potente, può mostrare un comportamento aggressivo se non gestito correttamente. Tu hai un cane? Fammelo sapere nei commenti. Numero 1. Il Pitbull. Noto per la sua forza e determinazione, può diventare pericoloso se non addestrato e socializzato correttamente.